Il mese scorso, dopo il suo rientro da Roma dove aveva incontrato il premier Renzi, qualcuno aveva parlato di un possibile ripensamento sulla possibilità di realizzare il ponte sullo stretto. Lo stesso sindaco Corinti aveva però ribadito che non c'era alcuna intenzione di tornare indietro su una questione archiviata dal governo Monti. Eppure a guardar bene il documento di economia e finanze non si direbbe così, perché proprio in un allegato del DEF c'è un fondo di oltre un miliardo di euro destinato alla società stretto di Messina S.P.A. A renderlo notò oggi il quotidiano La Repubblica nella sua edizione online, un articolo che ha subito fatto scatenare un tantam nei corridoi Capitolini e la cui eco è arrivata fino a Palazzo Zanca. E così si è messina il sindaco Corinti e ha già chiesto ai suoi esperti di informarsi affinché venga chiarita la destinazione reale di questi fondi. A Roma i deputati di Selle sperano che si sia trattato di un grossolano errore. Proprio loro hanno infatti scoperto il fondo nelle tabelle di aggiornamento del programma Infrastrutture Strategiche e hanno deciso di presentare un'interrogazione diretta al ministro Maurizio Lupi. Come si legge su Repubblica va chiarito che il governo non voglia riaprire la questione, hanno detto, ma come si legge nel testo dell'interrogazione preparata dai deputati di Selle e di un'eccezionale gravità considerato che l'allegato Infrastrutture rappresenta il documento programmatico del governo per eccellenza in materia infrastrutturale. Il sospetto che questa riassegnazione possa essere varata anche successivamente alla discussione della legge di stabilità 2015 considerate le esternazioni recentemente rese dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in favore della realizzazione del ponte stesso.